Risulta sempre difficile quantificare quanti siano gli incivili che preferiscono gettare rifiuti fra i cispugli piuttosto che conferirli nella maniera corretta, ma in piazza Venezia sembra che ce ne siano molti, viste le numerose bottiglie, i pacchetti di sigarette, i bicchieri e le cannucce e chi più ne ha più ne metta, che si possono trovare fra le siepi della piazza, permettendo che il verde di quest'area di per sé non si presenta nella maniera migliore e trasmette in parte un senso di trascuratezza che dovrebbe essere preso in carico da chi di dovere, ciò non è assolutamente giustificabile per rendere una piazza una pattumiera. La colpa è di chi frequenta l'area, consuma e lascia a terra i tanti oggetti visibili in mezzo ai rovi, forse non conscio del fatto che proprio questa estate il comune, la FIP e la Cegas hanno promosso una campagna di sensibilizzazione sui rifiuti, installando a pochissimi passi alcune batterie di cassonetti per la differenziata, o meglio, questi consumatori ne sono consci, ma oggigiorno sembra così difficile fare quattro passi per non sporcare o diversamente sembra più figo rendere un pattume la piazza. Beh, non è figo affatto, i costi delle pulizie straordinarie gravano su tutta la cittadinanza, basta poco per rispettare una semplice norma di igiene urbana, ma probabilmente il messaggio riportato vicino ai nuovi contenitori ha già una risposta, qualcuno proprio non ce la fa.